Tu sei geloso, Tommaso? Ma di chi soprattutto, Alfonso? No, te lo chiedo perché, guarda, ieri sera, caro Tommy, devi sapere che a Domenica, a Live non è la D'Urso, un tuo ex ha fatto la corte a Francesco. Ti dico soltanto questo. Ma quella è che... Ti dico solo questo. Guarda che faccia. Ma, purtroppo è la verità. Guarda che è la verità. Hai una faccia meravigliosa, ti giuro. Vuole mettersi a piangere. Ma quello lì, Marco... Francesco, discolpati se non è vero. Francesco, scusami, è com'è andata, fammi capire. Perché sto qua con Daiane? Mi ricordo neanche il nome, neanche la faccia, quindi hai già capito tutto. Cosa? Non mi ricordo né nome né faccia. Ma cosa faceva? Cosa faceva quel verme? Non posso raccontarti, però tranquillo. Però gli ha fatto la corte, apro e chiudo. Ci pensa il tuo amico, stai tranquillo. Che l'horror.